Portarei le persone oneste al Parlamento europeo che facciano quello che il normale cittadino farebbe, non vogliamo i fenomeni, non vogliamo gente che pensa di andare lì e cambiare la sorte di tutto in una mossa, vogliamo persone oneste che si impegnino. Io me ne presento ora una, si chiama Marco Zur, è il candidato per la circoscrizione il nord-est, l'Italia nord-est che vi pagherò un po' il nostro programma per le europee e di qual è l'obiettivo reale del Movimento 5 Stelle che come dice anche il nostro slogan è cambiare l'Europa per cambiare l'Italia, perché oggi l'Europa è influente sulle nostre vite molto più di quello che immaginiamo, perché se un giorno troverete che per fare una radiografia all'ospedale che un anno come oggi ci vorranno due anni, è perché quando si rendono soldi per pagare i debiti o per l'Europa i soldi vengono per esempio da due bacini, sanità e scuola, quindi questo è molto più vicino a quello che immaginiate l'Europa, ma fino a ora c'è stato un altissimo tasso di astensionismo, all'ultima elezione europea su 500 milioni di altri cittadini europei, 280 circa milioni avevano diritto al voto, hanno votato neanche un terzo di questi. Io vi chiedo di far capire a chi vi sta vicino o a chi vi sta lontano se aveva tanta voglia di lavorare in questo mese, tanto è solo un mese, abbastanza che c'è un po' di impegno tutti, è un mese. Far capire alle persone che ci stanno vicino che le elezioni europee non sono qualcosa così, un referendum sull'Europa, sono determinanti per il nostro futuro, perché se il prossimo anno ci dovranno appare 50 miliardi per il fiscal compact, sarà colpa nostra che abbiamo scelto di non cambiare le cose. E allora le più grandi rivoluzioni nascono dal popolo che sceglie di metterci la faccia e sceglie, come diceva all'inizio che vi aveva raccontato, di uscire dal concetto di schiavitù e tornare sovrano. Ora vi faccio raccontare qualcosa sulle elezioni europee, sul nostro programma da Marco Zulli e vi ringrazio per aver riascoltato. Ciao a tutti, io sono Marco Zulli, sono un attivista del movimento dal 2005, opero più che altro da Pordenone, arrivo da lì. Mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle, quando ancora non c'era questa idea politica, perché leggendo i giornali, guardando le tv, capivo che c'era qualcosa che non funzionava, c'era una stortura. E Grillo ha avuto il grande merito di darmi un altro punto di vista, farmi vedere gli stessi fatti con occhi diversi. E lì è nata in me una scintilla che mi ha portato verso l'informazione, la ricerca. E ho capito che il mondo non è così come ce lo vogliono far credere, ma può essere diverso. E ho capito che se ognuno di noi ha una visione, le cose possono realizzarsi. L'Europa non è uno strumento, un qualche cosa di lontano. Questo non ce lo dicono e ce vogliono far credere. Infatti, io non so in questi giorni quanti degli altri candidati parlano di Europa. E quali sono i programmi degli altri partiti. Così in questo momento che io mi sono trovato da semplice impiegato ad essere eurocandidato. E ho avuto un po' di timore, perché è un ruolo di responsabilità. Non è che dall'oggi a domani uno si improvvisa esperto, tecnico di tutto. Ho iniziato un po' a studiare. Ed ho capito che il segreto di tutto questo è la semplicità. Il programma del Movimento 5 Stelle sono 7 punti, 6 più uno, che adesso vedremo assieme. E la cosa forte di questo programma è il sentimento e l'idea che c'è sotto. Che è quello di far acquisire a noi cittadini il potere di decidere il nostro futuro. E questa è la chiave di bomba. L'Europa fino adesso non ha funzionato per tanti motivi tecnici. Ma soprattutto per le persone che mandiamo lì. Ne ha nominati qualcuno Maglio prima. Nella nostra circoscrizione abbiamo tra gli eurocandidati Zanonato, ex ministro, che la stessa Seracchiani ha chiesto la sfiducia. Di fatto adesso invece lo vediamo premiato verso l'Europa. Il ministro Chienge, anche lei è candidata nella nostra circoscrizione. Evidentemente anche lei per meriti. Qual è la differenza del Movimento 5 Stelle? È che noi partendo dal Comune, quindi passando per le regioni, per Roma, adesso fino in Europa, perché noi vinceremo. Dobbiamo solo definire quanto vinceremo, ma noi vinceremo. Questo è in dubbio. Abbiamo creato un sistema di competenze e partecipazione. La competenza. A noi dicono il Movimento siamo populisti, spariamo numeri a caso, non siamo preparati. Perfetto, lo dicevano anche dai nostri parlamentari a Roma due anni fa, ormai, e mi pare che a distanza di quasi due anni la storia sia cambiata. Lo dicevano a noi in regione e a distanza di un anno le cose sono cambiate. Allora sono andato a vedermi che cosa fanno gli attuali politici per noi cittadini nei confronti dell'Europa. Ricerche che ho fatto da Libero Cittadini, i dati sono pubblici in internet, basta un attimo capire qual è il sistema per accetterli. Allora, l'Europa ha un programma di finanziamento che sviluppa su settennato, sette anni. Il programma precedente era il settennato 2007-2013, quello che sta iniziando ora è il 2014-2020 e mette a disposizione dell'Italia 42,5 miliardi di euro che sono lì già stanziati. Bisogna solo avere le competenze per prenderli e utilizzarli. Tra l'altro questi sono soldi che noi abbiamo noi già versato, per cui gli si apre anche un altro dibattito che affronteremo dopo. Perfetto, allora il nostro governo prende e manda una relazione alla Commissione europea per spiegare come vogliamo utilizzare questi 42 milioni di euro. Io mi dico, ci saranno fior fior di tecnici che manderanno una relazione con i fiocchi. Però qua abbiamo una ventina di osservazioni della Commissione e iniziano così. Con riferimento all'impostazione generale, la Commissione rileva che esso è ancora lontano dal livello di maturità richiesto. Perché? Perché è privo di intere sezioni previste dal regolamento. Se io facessi una cosa del genere a lavoro, il giorno dopo sarei a casa. Molte delle sezioni presenti contengono alcune informative strutturali. Non si concentrerebbe sulle priorità fondamentali. Gli obiettivi tematici presentati in maniera generale sono deboli riferimenti alle raccomandazioni specifiche. La logica di intervento è inadeguata. Vi sarebbe un notevole squilibrio tra l'analisi e le priorità scelte. I risultati sono di difficile misurazione. Dovranno essere indicati i dati di partenza rispetto agli obiettivi attesi. Risulta impossibile una chiara strategia di sviluppo territoriale. Ma ci stanno prendendo in giro. Abbiamo 42,5 miliardi di euro lì da poter utilizzare e rilanciare il nostro territorio e noi mandiamo, mi pare anche quest'anno, la Ila Zanichi in Europa a tutelare i nostri interessi. Sì, forse quest'anno ha studiato. Ed è questo il segreto di tutto. L'Europa è uno strumento per valorizzare i nostri territori. Ha delle cose positive, ha delle cose negative che i nostri sei punti andiamo ad affrontare. Io come la interpreto dal semplice cittadino e da come la vivo oggi, l'Europa è un'equazione finanziaria. Bisogna rispettare certi parametri che tra l'altro, quando diciamo l'Europa ce l'ha imposto, l'Europa ce l'impone, è un po' un falso. Perché non è l'Europa che ci impone qualcosa. Siamo noi stessi che abbiamo eletto delle persone al Parlamento italiano e all'Europarlamento che ci auto imponiamo dei vincoli. E perché lo facciamo? Non lo facciamo per noi. Lo facciamo perché ci sono delle lobby di interessi che hanno altri interessi. Quindi la grande movimentazione di denaro che si viene a creare, piuttosto che le direttive definite dalle commissioni, non servono per sviluppare il territorio, ma servono per dare la possibilità a certi centri di poteri. non so se alcuni di voi hanno seguito tutto il discorso sugli OGM che ha toccato il friù di Venezia Giulio per prima, che sarà la testa della dieta per entrare in tutta Italia. Bene, allora, io di nuovo da 16 cittadino Marco Giulio, impiegato in un ufficio tecnico, apre il computer e va a sfogliare il sito della comunità europea. E trovo queste informazioni. in Europa sono registrati 1191 prodotti alimentari di origine protetta. Di questi 1191, 161 sono italiani. Noi rappresentiamo il 22% degli alimenti protetti in Europa. Allora, a me semplicemente vabbè a dire, perfetto, è questo il futuro. Noi dobbiamo tutelare e valorizzare quello che nessuno ci può portare via. Quindi, l'agricoltura e il turismo. Cosa hanno deciso in Commissione europea coi membri eletti dalla politica in Europa con poche osservazioni, anche se adesso hanno cambiato registro del Parlamento europeo che ha potere consultivo di controllo ma non non egifera, che noi in Italia qua dobbiamo coltivare l'OGN. E qual è la conseguenza di questa imposizione? Che noi massacriamo la nostra potenzialità di creare un territorio su cui far arrivare gli stranieri che arrivano qua fondamentalmente per il paesaggio e per i cibi. è un nostro punto di forza, dobbiamo svilupparlo assolutamente. Quindi, questa battaglia che noi andremo a fare in Europa, la si combatte anche insieme a tutte le istituzioni in cui il Movimento 5 Stelle è presente, a partire dai comuni. Perché il filo conduttore è sempre lo stesso. Quindi noi cittadini dobbiamo andare in Europa per controllare, puntare quel faro di cui diceva prima Mario e cambiare registro. Perché niente è immutabile. Il nostro programma, il primo punto, uno dei fondamentali è l'abolizione del Fiscal Compact. È uno strumento, un accordo di stabilità europeo. Che cosa dice il Fiscal Compact? Che i paesi che hanno un debito più alto del 60%, una forte debito PIL, devono rientrare questo 60% in 20 anni, bla bla bla. Che cosa significa in pratica? Perché, apro una piccola parentesi, io sono andato, mi hanno invitato a una trasmissione televisiva, anche lì timoroso, ho detto adesso mi confronto con chissà quale esperto, e poi alla fine tante ciaccole per non far capire qual è il punto del discorso e non si arriva mai a una conclusione. Io ho una formazione tecnica, sono laureato in ingegneria e quindi mi piace avere i dati e arrivare subito al punto. Poi su questo possiamo anche costruire i fronzoli. Il Fiscal Compact significa che noi ogni anno, per entrare di questo debito, dobbiamo mettere a copertura del debito, per abbassarlo, 50 miliardi di euro. Poi può essere anche un po' meno. Com'è meno? Se improvvisamente il debito non aumenta, anche se abbiamo 70 miliardi di interessi a pagare ogni anno, per cui non si capisce perché improvvisamente questi miliardi non devono essere più pagati. Se improvvisamente l'economia riparte, siamo fermi da anni, non vedo perché proprio domani l'economia deve partire a mille. Se ci sono tutte queste condizioni, allora non parliamo più di 50 miliardi, ma di qualcosa di più piccolo. Ma possiamo anche stare qua a disquisire. La sostanza non cambia. Noi dobbiamo investire decine di miliardi per entrare nel debito e queste decine di miliardi non è che arrivano dal cielo. Sono i nostri soldi. I soldi che invece potremmo investire sulla sanità. Potremmo investire, io mi permetto di dire, per pagare delle persone serie che possono fare un piano da presentare all'Europa e attingere. Questa è la differenza. Per questo noi siamo contrari a questa imposizione, che ci siamo autoimposti. Perché tutti gli altri partiti che adesso si lamentano, noi siamo contro l'Europa, siamo contro l'euro. L'hanno votata loro questa imposizione. Non noi cittadini, non noi del Movimento 5 Stelle. Allora, di cosa stiamo parlando? Di nulla. Perché poche idee, è chiare, e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, la visione per il futuro è molto chiara. È semplice. Quando noi abbiamo messo in Costituzione il pareggio di bilancio, che cosa significa in pratica? Significa che noi non siamo più liberi, se c'è bisogno, di investire denari dove serve, rispetto alle priorità del momento. Quindi, stessa solpa, dobbiamo investire in innovazione. Non possiamo, perché dobbiamo rispettare il pareggio di bilancio. Noi nei nostri punti, invece, chiediamo che questi termini escano al di fuori di questi vincoli. Il concetto è sempre questo, è unico. Noi chiediamo degli espliciti finanziamenti verso il chilometro zero. Questo significa che ha perso l'economia locale, cosa che adesso in Europa non è possibile fare, perché sempre ci sono questi vincoli che ci siamo autoimposti. Chiediamo la Costituzione di questi famosi eurobond. Poi, io ho iniziato a approfondire, così in colà, mi sono trovato anche sommerso di osservazioni molto tecniche, ma mi succo del discorso ancora una volta. che cos'è? Anche in questo caso noi abbiamo un esempio pratico, che è la Grecia. L'idea di comunità europea è stata abbandonata da un pezzo, infatti si parla di Unione Europea. La comunità richiede un senso di appartenenza e di reciproco aiuto. Quindi, se c'è qualcuno di noi in difficoltà e fa parte di una comunità, si aspetta di essere sostenuto dai suoi compagni e amici, non di essere messo in disparte e fatto fuori. Quindi l'eurobond è uno strumento finanziario che serve a condividere i debiti, in modo da fare senso di gruppo, di muoverci assieme, perché altrimenti che cosa succede? Succede come la Grecia. L'Italia ad oggi è ancora salva perché il suo debito non è in mano agli italiani, non era in mano agli italiani, ma era in mano alle banche straniere. Quindi far saltare l'Italia significava far perdere un sacco di soldi ai gruppi finanziari esteri. Da quando è arrivato Monti, il trend è cambiato e l'Italia, con le nostre tasse, sta ricomprando il suo debito. Così come quando è successo in Grecia. Non appena il nostro debito sarà, nella maggior parte, a carico degli italiani, noi verremo abbandonati. E questo è il futuro che si aspetta se noi non cambiamo visione, non cambiamo strategia. E per fare questo bisogna cambiare chi abbiamo il governo, in Italia e a tutti i livelli. Altrimenti non usciamo fuori. La valorizzazione del territorio è, ripeto, l'unica via di uscita. Noi dobbiamo tornare alle nostre terre. Questo non significa chiuderci o imporirci, significa aprire anche un dibattito con gli altri paesi del Mediterraneo che più o meno sono nelle stesse condizioni, e fare massa critica. Ma massa critica non uno contro l'altro per imporre chissà quale visione, ma semplicemente per dare la possibilità a tutti noi di rilanciare l'economia basandosi su gli strumenti che abbiamo a disposizione. E qui si aggancia anche il discorso un po' più generale dell'economia e del commercio. Noi viviamo in Europa, e questo è un argomento che a me sta molto a cuore, in cui abbiamo un'economia agricola che viene massacrata perché produce e non può vendere. Perché noi le arance dobbiamo comprare dalla Turchia, i pomodori dobbiamo comprare addirittura dalla Cina, e questo solo perché lo hanno imposto in Europa. Questo invece lo dicono sempre, a me la fastidio, perché è il libero commercio. Però per il libero commercio io non posso tutelare a me stesso. Per il libero commercio io devo morire di fame. Ma il libero commercio è darmi la possibilità di mettermi sul mercato e se saprò essere bravo e competitivo, sopravvivo e guadagno. Esporto il famoso made in Italy. Questo è il libero commercio. Non come ricordo qualche anno fa, libero commercio significa chiamare aranciata una bevanda che non ha arance. Il libero commercio oggi è chiamare cioccolata un cibo che non ha cacao. Perché questo è il libero commercio. Però noi non siamo euroscettici contro l'Europa. Noi semplicemente non vogliamo questo tipo di Europa. Perché questo tipo di Europa non valorizza noi cittadini. Ma è solo un'imposizione. Quindi come diceva Mario, anche io vi esorto ad andare in giro tra le vostre conoscenze e far capire l'importanza di queste votazioni. Perché un'altra cosa sempre che ho scoperto in questa brevissima carriera di ero candidato, io mi aspettavo di andare in giro per le tv, di essere chiamato di qua, di là. E questo non sta avvenendo. Per curiosità ho chiesto al giornalista, ma perché non ho la possibilità di andare in tv? Perché per via della parcondicio se chiamano me nel Movimento 5 Stelle devono chiamare anche altri partiti. Gli altri partiti hanno deciso che è meglio non farsi vedere. Perché ogni volta che aprono bocca perdono voti. E poi torniamo al concetto dell'informazione. Non ci vogliono far sapere le cose. Quindi ci vogliono far vivere nell'ignoranza e andare avanti come niente fosse. E questo gioco io credo che finirà. Perché 25, 30, 35, 73 euro deputati li manderemo a Bruxelles. E lì avranno il compito di rendere visibile cosa sta succedendo. Come mai i fondi non vengono utilizzati? E se vengono utilizzati, spesso vengono utilizzati male. Noi come Italia utilizziamo circa il 40-42% dei fondi che ci vengono messi a disposizione. Del settennato per una serie di regole, ne usiamo ancora meno, però c'è un vincolo sulla legislazione per cui abbiamo due anni aggiuntivi di tempo per usufruire dei soldi di cui non abbiamo usufruito. E questo in cosa si traduce nella pratica? Che per fare le cose male e in fretta il rimanente salve che non abbiamo utilizzato o non lo usiamo. E mi verrebbe da dire per certi versi nella migliore delle ipotesi. Perché l'altra ipotesi è ancora peggio. La usiamo di fretta e furia, con questi vincoli che ho detto prima, per dare da mangiare a qualcuno di specifico. E tutto questo per me è perché non c'è progettazione, non si ha un'idea del futuro. Il piano europeo si sviluppa su sette anni e ci sono tutte le tappe. Il compito dei parlamentari europei, che controllano le condizioni, è quello di intervenire in questi sette anni, per far presente quali sono le necessità del territorio che rappresentano. Perché poi, quando entri nel momento giusto, i tuoi bisogni vengono presi in considerazione e quindi c'è la possibilità, con più facilità, di usufruire di certi finanziamenti. Se questo non si fa come adesso, poi noi ci troviamo calato dall'alto un bando, una possibilità che non si adatta alle nostre esigenze. E quindi anche per questo, nel caso del terremoto e delle autostrade irlandesi, perdiamo finanziamenti. Come vengono utilizzati i finanziamenti? Abbiamo una burocrazia in Italia che è allucinante. Dal momento in cui l'Europa mette a disposizione il bando, la possibilità di accedere a dei fondi. Da questo momento alla presentazione del bando in Italia, possono passare anche fino a 4 anni. Aperto il bando, dalla creazione della graduatoria, può passare fino a un altro anno, anno e mezzo. E siamo a 5 anni e mezzo. Poi c'è un altro po' di burocrazia e dei 7 anni che abbiamo a disposizione, dobbiamo fare le corse per usare tutto in un anno o 6 mesi. Capitano anche di queste cose qua. È ovvio che noi non sappiamo utilizzare e sottare questi finanziamenti, perché poi questo Inter, chi va a finanziare, chi va a sostenere la piccola azienda che per fare innovazione sul territorio deve aspettare 5 anni? No! Va a finanziare quei grandi gruppi che sono già autonomi e che magari si inseriscono in questi canali contributivi perché hanno le spalle coperte. o peggio, perché è il giro fuori anche questo, le voci di finanziamento sono diverse centinaia, perché l'Europa non è proprio così trasparente come ci vogliono far credere. Per cui, se uno sa, rimane, e questa è la questione delle lobby di cui si parlava stamattina, sa a quale canale contributivo accedere e in quale momento, e magari sapendo anche già che cosa presentare, allora utilizza il fondo. Se uno non è pratico di questi meccanismi, non lo soffruisce di niente. Cioè la mentalità è sempre la stessa e noi la dobbiamo cambiare. Ma lo stai dicendo che ci sono lobbyisti, immagino, ad un vecchio. Sì, ma allora, chiariamo una cosa, il lobbyismo, giuridicamente, non è un termine cattivo, è un farsi promotore di... è una spinta da parte di portatori interessi. Allora io vorrei che si parlasse ancora di lobbyismo, ma lobbyismo dei cittadini. Cioè ci devono essere tutti i cittadini che fanno capire quali sono le priorità. La mia priorità non è rispettare il 3%, non è rientrare nel debito. La mia priorità è avere delle regole che in questa situazione di crisi mi permettono di tirare su l'economia locale e di tutelare i cittadini nella sanità. Perché tutto torna a noi cittadini. Se noi abbiamo il vincolo sulla sanità, perché dobbiamo rientrare nel debito, quello su cui si va a incidere, in minima parte sono gli sprechi, ma sono tagli generalizzati. L'ho detto prima tu, sanità e istruzione, che sono un valore chiave in sanità, perché ovviamente se moriamo presto ci interessa poco. E l'istruzione è l'altra chiave, perché l'istruzione è legata all'innovazione, il famoso made in Italy. Cioè è da lì che arriva. E noi sempre su questi canali andiamo a tagliare. Alberto, scusa però, se noi moriamo presto ci pagano meno pensioni. Che conto? Ma può darsi che abbiano anche fatto questo ragionamento. Quindi un taglio anche lì. Sì. Ma anche le schiavi e ignoranti. Schiavi e ignoranti. Queste sono parole chiare. Quelle che piacciono a noi sono credibilità, perché la credibilità è persa. Parlevamo prima a nominare alcuni casi. Cioè io non so con credibilità in Italia. Gli avvocati di Berlusconi a metà aprile hanno fatto ricorso alla Corte dei diritti umani perché Berlusconi non si può candidare alle europee. Ma io lo trovo ridicolo, ma non pare un giudizio troppo generoso dire che è ridicolo. Credibilità è sentire Renzi che a letta dice non ti preoccupare, però fa fuori. Mai premia senza elezioni, ce lo troviamo premia. Credibilità è di 10 punti e dire abbiamo imposto un limite massimo all'amministrazione delle partecipate, poi vai un attimo a approfondire a un limite suggerito. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un programma che è stato occupiato pari e pari dalle altre forze politiche, ma a me piace sempre dire loro lo dicono e noi lo facciamo. Cioè il Movimento 5 Stelle ha fatto cose importanti. Le citavi prima tu il conguagno tra credito rispetto alla pubblica impresa, la pubblica amministrazione e i privati. Il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, a seconda di chi fa la stima, vale dagli 80 ai 120 miliardi di euro. I tempi di pagamento sono in media in Italia 171 giorni, in Europa 31. Di cosa stiamo parlando? È lì che bisogna agire se vogliamo cambiare, se vogliamo tornare a riproparci della nostra vita. Sono queste le cose che contano. Io ripeto, sono un impiegato, ho bisogno di semplicità. Vanno in tv e sento parlare a questi qua di nulla, mi albero, a me rifacciano che sono troppo pacato perché non mi sento tanto portato al comizio. Però di fronte a certe storture non si può più staccarmi. Cioè bisogna agire, bisogna prendere in mano la propria vita e far valere i propri diritti. Non stiamo chiedendo l'impossibile, stiamo chiedendo una cosa che dovrebbe essere la normalità. E io mi vergogno un po' a dover fare i comizi dicendo che chiedo la normalità. Bene, mi intaccio qua.